Papa Francesco ha incontrato stamattina il presidente francese François Hollande. Nel colloquio sono stati richiamati buoni rapporti e assistenti tra Francia e Santa Sede ed è stato ribadito l'impegno a mantenere un dialogo regolare tra Stato e Chiesa Cattolica. Nel contesto della difesa e della promozione dell'anichità della questione umana si sono passati in rassegna alcuni argomenti di attualità, quali la famiglia, la bioetica, il rispetto delle comunità religiose e la tutela dei luoghi di culto. La conversazione è proseguita su temi di carattere internazionale, ci si è soffermati sui conflitti in Medio Oriente e in alcune regioni dell'Africa, auspicando che la pacifica convivenza sociale possa essere ristabilita attraverso il dialogo e la partecipazione di tutte le componenti della società, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle minoranze etniche e religiose.